La donna è origine, forza, tenerezza, ma soprattutto vita di tutti i giorni. Mille molteplici aspetti che il fotografo leccese Elio Scarciglia ha trasformato in una galleria di 32 istantanee che, dopo aver fatto il giro del Salento, sono arrivate a Bari proprio nel giorno della festa della donna. All'inaugurazione, nelle sale della Biblioteca Nazionale, erano presenti Chiara Mancisi della Soprintendenza Archivistica per la Puglia, Rosa Capozzi del CNR e il poeta Bruno Aurisicchio, autore della raccolta Gli occhi delle donne, di cui l'attrice Sara Leuzzi ha letto alcuni brani. L'idea è quella di fare prima di tutto un omaggio alle donne, poi ci sono dei concetti che io ho voluto esprimere, quello della donna madre, quello della donna non in competizione con l'uomo ma in collaborazione con l'uomo. La donna è bella anche quando accumula giovinezza e quindi è bella anche quando ci sono queste rughe che raccontano la propria storia, è bella anche quando lo sguardo è fiero. Io ho ricercato nelle immagini o nei soggetti soprattutto delle storie.